ciao amici e benvenuti in questo nuovo video e benvenuti di nuovo sul mio canale allora oggi come vedete siamo in mountain bike siamo sui colli Uganei faremo un piccolo allenamento di circa una trenta quarantina di chilometri e 7 800 metri di livello adesso ci stiamo trasferendo da Monselice che è andando verso la Qua Petrarca per poi prendere una delle prime salite che vengono fatte anche alla Monselice in Rosa passeremo per un vigneto e poi inizieremo a salire poi ci troveremo sul monte Cecilia dove scenderemo per prendere la Scaiara dopo un piccolo trasferimento di circa 5 chilometri 6 andiamo verso la prima salita di giornata eccoci qua adesso giriamo a destra attraversiamo questo piccolo pezzo di vigneto e poi gireremo a sinistra per salire subito tendenza all'11 per cento per poi calare verso il 7 tutto bello impegnativa la salita adesso qua spiano un pochino e dopo qua girate a destra riparte la salita dura a da e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo arrivati a questo bivio, vediamo su a sinistra. Grazie a tutti. Qua ci sono due linee, prendiamo questa qua interna. Eccoci, faccio la prima discesa. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Come vedete, specialmente l'ultimo pezzo è intorno al 13-14%. Pendenza è molto tecnico. Adesso stiamo raggiungendo l'ultimo pezzo, ci porta sulla strada asfaltata e arriviamo al pianoro. non sembra perché Flago Pro spiana molto, ma siamo al 12% di pendenza. Eccoci arrivati in cima. questo è la primavera. Questo è il periodo migliore per venire a fare questi giri qua. perché il problema è che purtroppo nel periodo estivo, quando fa molto caldo, questi sentieri qua si riempiono di tafani. Ciao, grazie. 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 Grazie. andando a prendere la salita di Assanta, una bella salita, bella lunga e anche bella tosta. quando arriveremo in cima vediamo se girare a sinistra per il monte fasolo, arrivare in cima e puoi scendere, oppure se girare a destra e tornare verso un selice facendo un altro pezzo di salita quando arriviamo su vediamo intanto pensare a fare questa salita qua che è tutta in doppia cifra e con dei pezzi al 22% eccoci qua all'inizio della salita della Santa subito un bello strappettino piccolino al 13% e lì c'è il muro dalla GoPro non si vede ma lì c'è il muro al 23% quasi arrivato in cima c'è l'ultimo strappetto eccoci arrivate adesso stiamo salendo sul monte Fasolo lì c'è la fattoria del monte Fasolo poi scendiamo e lo aggiriamo va e lo aggiriamo e lo aggiriamo questa salita ci fa a metà della Spacapria un'altra gara molto rinomata che si fa qua sui colli un piccolo pezzettino abbastanza tecnico e poi ritornare sul monte Fasolo e poi scendere verso Monsedice un'altra gara un'altra gara Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi la facciamo in discesa, più avanti prendiamo la discesa della fangara. Grazie a tutti. Ciao amici. Abbiamo caricato la bici in macchina, siamo arrivati alla fine. Spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo fatto 40 km e 1000 m di slivello. Non mi resta altro che invitarvi a iscrivervi al canale, a mettere mi piace ai video, a commentarvi così mi dite se vi sono piaciuti oppure no. Vi invito anche a seguirmi sui miei social. Mi trovate come MrBuck90 su Instagram e Dennis Bovo MrBuck90 su Strava dove pubblico tutti i miei giri. Bene, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Grazie a tutti.